Il più cordiale buon martedì da Maria Beatrice Cresci, le audio news di Onda Web TV, le notizie positivo, vita e sussistenza, il tema della giornata mondiale degli oceani 2021 che si celebra oggi e che per il secondo anno verrà festeggiato in maniera virtuale a causa della situazione pandemica. Gli oceani dalla loro salute dipende anche la nostra, eppure le discese blu del pianeta sono minacciate da tanti gravi pericoli, ecco perché l'8 giugno si festeggia il World Ocean Day. Domani mercoledì alle 19.30 il nuovo monologo di Filippo Giordina 10, una stand-up comedy vietata ai minori di 16 anni all'Itzold Club di Caserta. E domani mercoledì alle 19 il pianeta che scotta è la conferenza di Stefania Papa al Museo Michelangelo di Caserta. Sabato 12 giugno prende il via la seconda edizione di Teatro in Cammino, carovana artistica percorsi teatrali per famiglie e ragazze che offre ad un ampio pubblico rappresentazioni teatrali e performance di teatro di strada. La rassegna, che prevede 40 appuntamenti fino all'8 agosto, è promossa con il contributo del Teatro Pubblico Campano in collaborazione con Artec, Associazione Regionale Teatrale della Campania e Regione Campania, ed è tutto da Maria Beatrice Criscio, forti abbraccio e una raccomandazione.